Angelo Ti sono piaciuto, io satisfied, ti soddisfatto dei complimenti dell'allenatore Grazie Sì, ti chiedo quanto è stato importante anche l'insegnamento di Spalletti per migliorare in questi movimenti, in questo pressing per recuperare il pallone Sì, è molto importante per noi, questa partita abbiamo vinto, perché tre punti molto importanti per noi, adesso solo due punti del Juve Dobbiamo continuare così perché vogliamo vincere qualcosa Qui vediamo il gol, il terzo gol, quello che ha chiuso la partita È la migliore prestazione in trasferta, lontano dall'Olimpico, da quando è tornato Spalletti, secondo te? Sì, tutti i giocatori abbiamo giocato bene oggi Questa partita è molto importante, perché tre punti è molto importante per noi Dobbiamo continuare così Ma ci credete a poter raggiungere la Juventus, a poter ritagliarvi questo ruolo di anti-Juventus dopo questa vittoria così importante? Sì, sì, tutti i giocatori crediamo bene Dobbiamo vincere qualcosa per la CETA, per la tifosi, per noi Prima intervista in italiano, Marco, che voto gli dai? Se l'hai gravata alla grande, che voto gli dai? Alla grande Alla grande Complimenti davvero, stai facendo grandi cose Ciao Grazie Grazie a Salah E più vicino a Roma la Juve o Salah?